oh oh cuoricino 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 salve cuoricino brava arachide brava arachide sviscita come non mai come ti ho insegnato occhio c'è l'amico ok sa che noi siamo qui salve no questo è un altro ma porca la miseria bravo rimani qua rimani qua se già il tuo destino quale è segnato noi non abbiamo scelto abbiamo niente non mi ricordo nemmeno dove diavolo abbiamo villato il maledetto di prima c'è sta cassa che mi dà un fastidio di prego cildini give me give me give me un saluto agli ultimi iscritti e iscriviti ora per essere salutato nel prossimo video la miseria di tutto tra i cd li ovviamente ok ce ne andiamo di qua oh mio è di noi è sotto qua fermi che fa il diavolo è che è di qua che non te la faccio restare billy ballo o farò altri o mio dio ma quanti diavolo siamo è una festa qua dentro quello ok continua a pararsi c'è qualcuno che è sotto di noi si sta sparando o cliccettino buonanotte ok tizio spada laser prima o poi si finirà l'effetto di sta spada laser spero e proprio quando definirà ai 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 si 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 bravo bravo o si no 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 cosa vuole fare cucciolo cucciolo di pedano cucciolo cucciolo di pedano vieni 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 che si finisce o si smarmellatina all'arachide molto gustosa noi in tutto questo devasto epico ci sono circa 74 mila player in i più a pinnacoli ok è una cesta non è una coroncina occhio non possiamo ancora cantare vittoria ancora il potere segreto del bosco non abbiamo tirato fuori occhio no no ma in ogni casa c'è qualcuno miserabile ti ho beccato c'è anche un camion dietro fermo 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 ho preso lo sto o no no buona situazione nuovo buona situazione lo so lo so lo so lo so lo so fermo per questo fermi 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 qualcuno o porca la miseria ecco il qualcuno lì ecco il qualcuno lì che al cecchino fermi l'abbiamo preso facciamo la massa facciamo la massa e facciamo la matta salve profumino buonanotte è entrato vivo è uscito morto molto buono occhio signori che c'è ok l'amico lo sento è tir contro macchina e non ho paura cucciolo dove vuoi andare ok questo vuole andare ovviamente arrestare amichetto fermi a chi l'abbiamo qui l'abbiamo noi buonasera no no signorina segna figlio o no il nostro amico cripto che hanno assoltato i maledetti fermo che ti libero vieni qua dottor cristo mamma mia stiamo facendo una pazzia noi signori è stiamo facendo una vera e propria pazzia quelli stanno ancora là dietro quelli stanno ancora da dietro andiamo 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 anche perché ci hanno rubato il nostro amico cripto e verrò presto o a punirli lo diavolo sono sento dei sound inserisci il codice r4 scone nel negozio oggetti per far parte della gang hanno restato là davanti i miserabili oh no è qua davanti molto molto buono guarda si è buggata la luce ma si è buggata la luce signori bug ufficiali della luce fermi che vedo il pivellino che è là sopra ok alla spada laser ma noi siamo ciecati non ci prendiamo ufficialmente si è buggata la spada laser official sparano anche da quest'altra parte io mi avvicinerei perché dobbiamo stare mucio mucio attenti alle cecchinate che è l'unica cosa che ci fa fuori subito andiamo in modalità stealth anche se stiamo facendo un bordello ok ma no si è buggata la luce si è buggata la luce ok 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 eccolo il frigo e lino buonasera buonasera dottore o o no la smarmellata no per me questo lo vediamo questo non si aspetterà mai che siamo qua dentro o salve 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 non mi smarmellare cucciolo già una volta ti sono venuto a prendere in questa maniera e lo rifaccio fermi non so dove si è qui e qui e qui e qui spada laser per l'amico buonotte no ancora vivo occhio 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 se due sono due hanno entrambi le spade laser ma quello che mi mette paura con i plegierini che stanno di fuori occhio dove sono ok stanno qui questo c'è stata capignante ovviamente non lo prendo nemmeno una volta fuggono 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 ok ce ne dobbiamo safe ultra safe o no c'è chi non ho però è va bene tutto ma c'è chi non ho cucciola occhio 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 che ti faccio male occhio fragolina ok abbiamo buttato giù o mio dio l'arachide killer quanto è cattiva devo arrestare lo a prendere l'applico cucciolo ma che mi dici body body di booty vengo subito a dare una bella sistema di in acqua e loot prima che arrivano gli altri cat guarda questi la roba che c'avevano e a sto punto faccia la pazzia signori è a sto punto con la ma chi c'è qua dentro lo chef chef buonasera buonasera non so se si ricorda di noi becco siamo il posto più cattivo della mappa mi fa più un goloso e da una vita che non vedo un pump decente buonasera certo si guardi un goloso per due salve chef mi servirebbe ma sì dai arrivederci grazie cucciolo e la o o o bello dritto per dritto si è giusto sì 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 basta dai con spade laser tanto l'abbiamo capito occhio di 30 o sì 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 ma come facciano a prenderlo signori ma tu guarda sto vikingo a costo che mi killano con un cecchino ok e non shield un altro preghino di là io ovviamente sto sparando a tutti come un fagiano signori questo è un polletto è questo è un polletto questo no no l'ultimo l'ultimo colpo del polletto ok buonotte sicuro questo è andato a prendere il suo amico lo sta restando official noi dobbiamo andare a vedere la situazione da quest'altra parte almeno ci capiamo qualcosa dovrebbero stare ok l'ha arrestato e l'ho richillato molto molto buono distruggiamo st'albero va che ci dà solamente fastidio però facciamo l'impiccio andiamo da quest'altra parte ok l'ha rinestato sicuro è no abbiamo finito i colpi eh io non ci vado giù signori io non ci vado giù perché ci sono altri team si colpini freschi per noi dammi qualcosa dammi qualcosa o altri colpi golosissimi l'hanno restati official c'è o o o mio dio quanta gente ma quanti siamo ancora 13 player in i vivi ok un altro di qua 28 colpi e dobbiamo andare a sciagallare dei colpi però però a te bartolomeo ti devo sparare per forza ok no 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 oh mio dio che trick bravissima signorina rachide contro chi diavolo stava sparando ho una paura di quei due tizi con lì che killavamo sempre non ho ok spade laser da quest'altra parte probabilmente su loro è molto ma tu stanno dentro no 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 stanno fuori stanno fuori tanti o mio dio sono qua sotto ok vieni qui in brugomela buonanotte a un brugomela buonanotte all'altro brugomela eh signorini ve lo rubate e oh eccola lì la cicogna proprio a te che stavo cercando no 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 cucciola cucciola no e che pappole dai che prima o poi lo finisci lo sai pure tu lo sai pure tu lo sai ma guarda io scendo e ti sparo sulle chiappe aiuto fermi all'amico ah il miserabile ovviamente l'hanno restato oh mio dio che bordella house ci si capisce niente fermi loro stanno tipo c'è un altro che mi spara oh mio dio no no cucciolo vieni qua vieni qua vieni qua ok bianco sono qua sotto fermi 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 questi sono incattiviti e ho paura di questi e ho paura di quell'uomo lì proprio quell'uomo lì col cecchino questo è bravo è questo è bravo il cecchino occhio aia è bravissimo ok c'è la cosa di benzina qui oddio per farlo tutti ma che diavolo è tutti contro di me dobbiamo andare in safe partita tempesta sì no ancora no stanno venendo su no ancora no ok fermi 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 questo è un buonissimo sposto per noi riprendiamo a questi bolletti oh mio dio vieni 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 chi l'ha d'uno molto molto buono l'altro col cecchino sia calmo lei signore col cecchino ok signori dobbiamo andare in safe dobbiamo prendere l'aria forse un po troppo tardi per prenderla macchine desideri corri prima che ci distruggi la tempesta vai arachide vai arachide no 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 di cui signorina raghe o mio dio siamo terrorizzato ok 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 ti do prende quello col cecchino si propria te cucciolo non se l'aspetta 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 se l'aspetta se l'aspetta via 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 aia 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 va bene pensi che scappiamo si guarda l'altro no è niente esce via cane ti ha sparato l'altro sul real occhio abbiamo eliminato qualcuno che è il compagno del cecchino sempre gli individui noi stiamo facendo la polgia ma siamo solamente entri e tutti gli altri dove stanno che non partecipano alla festa eccoli dove stanno ti devo andare a prendere assolutamente il tizio col cecchino tanto lui ecco 3 e basta ragazzi basta sparare a me basta maledizione a sti vikinghi ok 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 ho capito la lezione ho capito 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 va bene va bene facciamo così noi in silenzio sottovoce non mi dà delle cecchina sulle chiappe vi prego buono 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 qui c'è qualcuno no ottima position questa per noi o chi è che c'è un po zio goffri o buonotte tizio goffri era occhio o no 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 cucciolo 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 lo so lo so lo so lo so si è l'amico dello tizio goffri chi lato ok siamo nei contro cecchino è araldo ti prego usa tutto il suo potere è lui è lui è lui l'uomo da battere il vino da battere ok si mette in tiro la roccia molto molto bene noi studiamo una strategia che io quasi quasi vi dico lo costeggiamo o al cecchino in mano il vikingo sempre questo cecchino va bene tanto lui non se aspetta a meno che non ha i passi vediamo un po si bello 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 così vieni fuori dai buon Natale Gianfranco Gianfranco